Mario è molto indignato perché ha zebra e leoni Il turismo di massa sta rompendo i coglioni Mario clicca mi piace sotto la petizione E si sente un'audace, ha aiutato un leone Con un dito ha compiuto la sua buona azione Piccoletta ha postato le sue foto a capisce Con il picchino scosciato esibisce le cicce La maniera trovato per amare se stessa Con il culo applaudato è un po' meno depressa 24 ore al giorno rimane connessa Clicca, twitta ed arriverà il tuo quarto d'ora di popolarità Nel tempo del social vuoi essere special Sei un ragazzo capace Se hai i tre mila mi piace Grazie a tutti Poi c'è angelo a cui sembra molto importante informarci che lui ha innaffiato le piante Se 180 persone sono lì a commentare 180 persone senza un cazzo da fare Per riempire il vuoto si può digitare Per riempire il vuoto si può digitare Clicca, twitta ed arriverà il tuo quarto d'ora di popolarità E' il tempo del social E' il tempo del social Molti migliori in global Ecco il mondo perfetto Senza alzarsi dal letto Senza alzarsi dal letto Nel tempo del social Sembra ragazzo capace Nel tempo del social Vuoi essere special Sei un cretino verace Mai i tre mila mi piace Nel tempo del social 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 Grazie a tutti.